È un bel fardello, nel senso me lo prendo volentieri perché significa che ci sono degli stimoli. La vita deve essere improntata su stimoli, su cose nuove, sempre uno scopo da raggiungere. Io dico sempre che il campionato per noi inizia domani. È come se il Presidente mi avesse chiamato ieri e mi avesse detto che deve allenare la squadra domenica. Io la sto vivendo così. Domani è una partita difficile, una partita dove loro puntano molto sul gioco diretto. Quindi con le tre punte davanti, con i due punti, il trequartista e la mezzala si creano vantaggi sulle seconde palle, con l'attacco diretto. Quindi abbiamo bisogno di giocatori che ci coprono bene quegli spazi che loro andranno a cercarsi. Sicuramente nella zona laterale e in ampiezza loro faranno un po' più fatica a coprire il campo. Però non ci dimentichiamo che domani ci sarà anche l'incognita terreno di gioco. Perché il terreno di gioco è un po' più piccolo rispetto al nostro o al campo di Udine. Quindi quel vantaggio lì potrebbe anche un po' diminuire, se giochiamo o no, con due sistemi di gioco diversi. Quindi dobbiamo cercare di trovare anche altri vantaggi e soprattutto con una parola, dico sempre, il coraggio. Se c'è coraggio, ed è il tema su cui mi sono focalizzato questa settimana, è quello che poi andremo ad affrontare domani. Voglio una squadra coraggiosa. Ne abbiamo parlato col Presidente. Sicuramente un giocatore che ci può dare una mano e che ci dà un qualcosa in più, noi lo accettiamo. Quindi anche credo che il Presidente sia interessato a migliorarla la squadra. Ma, quello che ho detto al Presidente, l'importante è che prendiamo un giocatore che venga veramente a darci qualcosa in più. Perché se no, io ripeto, mi tengo volentieri e sono innamorato di quelli che ho. La prima donna, sinceramente, a me non mi è mai piaciuta. Quindi se viene con l'umiltà, perché io credo molto in questo principio, che l'umiltà precede la gloria. Io ho portato qualcosa di mio, sicuramente mi prendo anche quel mio lavoro, con le mie idee, ma assolutamente non sottovaluto quello che è stato fatto nei primi mesi di guida con lo staff vecchio, con Luciano Zauri. Quindi se nelle nostre corde è di arrivare in Serie A, dobbiamo andare lì. Non posso pensare di partire dicendo, ah no, forse perché devo pararmi del mio lavoro, perché se dico questo poi pretendono da me, si aspettano, no, non mi interessa. Io non faccio calcoli. Io non faccio calcoli.